Dal VCO alla Malamolada, alle operazioni di soccorso in questa grave tragedia, ha preso parte anche dal VCO Matteo Gasparini, delegato della decima delegazione Valdossola. In quale veste? Come piloto di droni del Servizio Nazionale. Sono stato attivato dal nostro Vicepresidente, che al momento è referente delle attività tecnologiche dei droni. I droni, alle 4 meno un quarto, mi ha chiamato, io ero in montagna, quindi non sapevo nulla, non sapevo cosa fosse successo, mi ha spiegato brevemente, mi ha chiesto se ero pronto a partire, gli ho dato uno stimato di un'ora e mezza per la preparazione e ci siamo organizzati. I droni hanno sempre più un compito fondamentale in questi tipi di interventi? Sì, diciamo che dal 2020 la legge 126, che è una modifica della legge 74, che è la legge quadro del soccorso alpino, ha introdotto la figura professionale del pilota di droni del soccorso alpino. Ci siamo attivati già col primo corso, anzi col primo incontro che abbiamo fatto a Riale in quest'inverno, proprio per creare un piano formativo e creare una scuola che formerà i piloti di droni del soccorso alpino. Nel caso particolare della marmolada, visto che la superficie era una superficie piana e dovevamo trovare reperti di qualsiasi tipo, soprattutto all'inizio si cercavano dei corpi che fossero visibili sulla valanga. Noi abbiamo attivato in modalità automatica o a manuale, a seconda del caso, a seconda della necessità di quel momento, la scansione di tutta l'area coinvolta dalla valanga. La scansione quindi veniva fatta con circa un set di 200 fotografie con i passaggi di questo drone. Queste fotografie venivano unite come tasselli di un mosaico e dopodiché si creava una mappa, quindi quella che vedete su Google Maps, però creata chiaramente con un drone che è a 50 metri, una risoluzione altissima e ci permetteva di vedere anche la forma di un guanto. La tragedia della marmolada ha messo in evidenza la gravità di sofferenza in cui si ritrovano purtroppo i ghiacciai. Assolutamente sì, diciamo che serracchi sono sempre caduti, il serracco di per sé è la parte terminale di un ghiacciaio e cade, questo si sa. Forse il rischio che cadesse questo serracco non era stato calcolato, però è un serracco e di per sé cade. È caduto alla 1.30, quindi anche in un orario compatibile col fatto che un serracco possa cadere. Io ricordo quando si andava in montagna e forse anche tu Marco che sei uno che va in montagna, sai benissimo che di solito il ghiacciaio si affronta magari con la lampada frontale e si scappa dal ghiacciaio prima di mezzogiorno, quindi se vogliamo cercare una responsabilità forse è questa, però c'è anche da dire che la salita alla marmolada era una cosa molto semplice.